Diamo la buonasera e ringraziamo per essere collegato con noi il direttore sportivo del Portenone Emanuele Berrettoni. Buonasera. Buonasera a voi. Allora, il Portenone dopo la vittoria in casa del Perugia nell'ultimo turno e usufruendo anche della sconfitta contemporanea proprio del Cittadella in casa contro il Pisa, ha agganciato i padovani in classifica, siete a tre punti dal Crotone. È il campionato che vi aspettavate di fare e quali sono in questo momento i vostri obiettivi? Beh, ci aspettavamo di fare forse un po' troppo, nel senso che noi naturalmente siamo partiti per salvarci, visto che è il primo campionato di Serie B che facciamo dopo cento anni di storia. Poi durante l'anno le cose sono andate molto bene, la squadra ha preso consapevolezza dei propri mezzi e abbiamo fatto un campionato sicuramente fino a questo momento importante e un po' sopra le righe. La partita si giocherà a Trieste, campo per il Pisa che evoca bei ricordi dello scorso finale play-off, avete giocato anche parte di questo campionato a Udine, però guardando il vostro rendimento interno, il terzo dopo Benevento e Crotone, sembra che non abbiate poi risentito di questa situazione, insomma, significare che la squadra è ben strutturata indipendentemente da quella che è la cornice esterna, sa cosa vuol fare e sa cosa deve fare. Sì, sì, questo era un po' il nostro dubbio iniziale, nel senso che andavamo a giocare lontano da Pordenone, in dei campi importanti, però devo dire che i ragazzi sono stati molto bravi e sono adattati subito a queste differenze, come dicevi tu, il nostro rendimento interno è da prime posizioni ed è il rendimento che poi ci ha permesso di trovarci terzi in classifica in questo momento. I complimenti vanno, come dicevo prima, ai ragazzi e allo staff tecnico perché sinceramente non era facile adattarsi a questo cambiamento importante. In tutto questo quanto c'è di Tesser? Beh, ma il mister sicuramente è un valore aggiunto per noi, è un allenatore con esperienza che conosce molto bene la categoria, che ha avuto la possibilità di portare avanti un progetto per due anni e insomma i risultati parlano per lui e parlano per noi come società. Affronterete appunto il Pisa, avrà immagino avuto modo di vedere la squadra di Luca D'Angelo che impressione che è una buonissima squadra, che i risultati che sta facendo sono risultati importanti. Dopo questa pausa forzata ha fatto delle vittorie importanti contro squadre forti e che si è rilanciata prepotentemente per arrivare ai playoff e la squadra che ha il Pisa, insomma penso sia un obiettivo alla portata. C'è qualche giocatore nero-azzurro che l'ha colpita particolarmente? Diversi ma sarebbe sbagliato fare dei nomi, ecco toglierei qualcosa agli altri. Io dico che il Pisa ha dei buonissimi giocatori, una squadra strutturata bene, fatta bene dal direttore sportivo con una società ed una piazza veramente importanti per questa categoria. Invece parlando un attimino della ripresa che c'è stata di questo campionato dopo la lunga sosta per il lockdown, come ha ritrovato il campionato? Si pensava forse e si immaginava che i valori potessero essere un pochino, tra virgolette, falsati da questa lunga sosta invece salvo qualche rara eccezione poi si è proseguito con la strada, sembra, con la strada intrapresa nella prima parte del campionato. Sì sì, sembra questo però qualche risultato strano ecco in ogni partita c'è, nel senso che fare tre mesi forzati a casa soprattutto per i giocatori è una cosa mai successa nella storia e sicuramente ci hanno messo del tempo per riadattarsi a giocare poi con dei ritmi diversi, con una temperatura diversa, con mille variabili e mille problematiche che fino a questo momento nella loro carriera poi non avevano mai incontrato. Però insomma le cose penso stiano andando bene. Pisa Pordenone vuol dire due squadre neopromosse che stanno lottandosi le posizioni playoff ma per quanto riguarda playoff e per quanto riguarda Pisa Pordenone tornando indietro al 2016 si torna a una doppia sfida che vedeva in quel caso Emanuele Berrettoni non dietro la scrivania ma con scarpette, pantaloncini e maglietta in campo. Che ricordi hai di quella doppia sfida con l'allora squadra di Rino Gattuso? Dei bellissimi ricordi perché siamo venuti a giocare in uno stadio bellissimo, stracolmo dove abbiamo preso tre gol però comunque sia la cornice era importante da, non voglio esagerare dicendo da serie A ma insomma da alta classifica di serie B e poi il Pisa insomma come dicevo prima è una piazza gloriosa, è una piazza importante e insomma penso che meriti tutto quello che sta facendo ecco in questo momento. Ti ringraziamo, ti salutiamo e ti ringraziamo per la disponibilità per essere stato con noi e a presto. A presto, arrivederci, grazie mille.